Sono tutti raccomandati in sto paese del cazzo. Adesso ci stanno sempre le stesse facce, ma chi cazzo si stragula? A me mi hanno rotto il cazzo! Devi imparare che cos'è la professionalità! La professionalità! Non fai che dire cazzate, ma come ti viene in mente di dire che è morto un tuo amico? Eh, vabbè, sta scherzando, se non manco scherzando! Posso dirti una cosa? Sì, certo. Mi vuoi scopare? Però, prendi conto, c'è la gente che sta fuori, è impazzita. Perché la gente non vuole più affrontare, non vuole più stare insieme, non vuole più dialogare, non vuole più parlare. Ma vaffanculo, va! Vaffanculo! Io non ce la faccio più. Vedi che ogni cosa che facciamo non funziona. Non funziona un cazzo. Non abbiamo più vent'anni. Intanto tranquillo, au! Che ti dico una cosa. La dolce vita ritorna anche per te. La dolce vita ritorna anche per te ma La dolce vita ritorna anche per te. La nuova vita ritorna anche per te. Grazie a tutti.